siamo in pochissimi siamo solo in quindici vediamo oggi noi siamo più leggeri quindi percorso per mangiare poi ci fermiamo perché non si mangia è l'ultimo ce n'è ancora? ce n'è ancora? non lo capito sei l'ultimo? non lo capito non lo capito non lo capito mappa Grazie a tutti. 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 Vai Marco. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto regolare. Tutto regolare? No, vai indietro. No, 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 no. 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 Due. Due. Tre. Una volta che parte, basta. Una volta che parte, basta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All right. Un, no, 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 no. No, no, no. Ehi che ancora qua Ehi che ancora qua Massacro, oggi è un massacro Micidiale, eh? Massacro più totale, ragazzi, micidiale E' successo? Oggi rincaviamo l'esercito Un'altra tarta lunga sul buco Uno, due, tre No, 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 no Un'altra tarta lunga Grazie a tutti. Ah, è grande. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.